Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, se sei interessato alle ultime notizie meteo in Italia, premi il pulsante. Mi piace per questo video e iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutte le novità ed esclusive relative alle notizie meteo. Il primo forte temporale colpirà l'Italia a partire dal 21 e 22 novembre 2023. Questa tempesta porterà con sé grandi quantità di pioggia che si avvicineranno o supereranno i 150 mm con forti venti, un notevole calo delle temperature e alcuni rovesci di neve. Questo temporale colpirà fortemente le regioni centrali dell'Italia e le zone all'interno del cerchio rosso per poi estendersi gradualmente al sud. Per quanto riguarda le regioni settentrionali, in linea di principio non sono preoccupate per questa tempesta, ma le previsioni sono ovviamente soggette a modifiche. Pertanto, secondo i dati preliminari a disposizione, si avrà nei giorni 21 e 22 novembre, fino al 24 novembre, un temporale molto forte che colpirà il centro Italia e alcune zone del sud, nello specifico Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Sardegna, in misura minore Basilicata, Puglia, Sicilia e maggiori dettagli, rimanete sintonizzati più tardi.